Selezioniamo l'immagine a destra e disegniamo dentro di essa dei poligoni chiusi attorno alle finestre. Tramite questi poligoni definiamo all'interno dell'immagine selezionata le parti che vogliamo ritagliare e estrarre. Per delimitare le parti possiamo usare poligoni e cerchi. In questo caso utilizziamo dei poligoni. Contorniamo la seconda finestra. Contorniamo la terza finestra. Infine contorniamo anche la quarta finestra. Poiché i poligoni sono vettoriali possiamo anche effettuare delle correzioni e rendere più precisi i contorni. Se spostiamo l'immagine anche i poligoni introdotti si spostano assieme, perché sono associati ad essa. Scegliamo il comando Crea trasparenza dal menu Trasforma. Scegliamo l'opzione Aree esterne per ritagliare ciò che è esterno alle finestre e confermiamo. Spostiamo l'immagine creata per evidenziare il risultato. Effettuiamo un doppio clic sull'immagine dello sfondo e cambiamo la trasparenza in modo da evidenziare la nuova immagine superiore scontornata con le sole finestre. Grazie. 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 Grazie.